Almeno tre persone sono morte nell'esplosione di questa mattina al ponte Kerk, che collega la Russia con la Crimea. Lo ha annunciato la Commissione Investigativa Russa dopo aver ricevuto le prime informazioni preliminari. Secondo i dati preliminari, a seguito dell'incidente, sono morte tre persone. Si trattava presumibilmente di passeggeri di un'auto che si trovava nei pressi della pista esplosa. Ad oggi sono stati recuperati dall'acqua i corpi di un uomo e di una donna. Le loro identità devono essere appurate, ha dichiarato Svetlana Petrenko, portavoce della Commissione Investigativa Russa, che sta indagando sull'esplosione al ponte. Il traffico dovrebbe riprendere alle 20 ora locale. Il ponte di Kerk è un'importante via di rifornimento per le forze russe che combattono nell'Ucraina meridionale.